finisce 2 a 0 per il badolato la gara contro il terina gara che si decide nel corso del primo tempo badolato subito in vantaggio al primo minuto poi contiene la reazione del terina e nella fine del primo tempo chiude la gara per 2 a 0 secondo tempo in cui le due squadre si sono affrontate alla ricerca del gol finisce comunque con la vittoria del badolato ne parliamo con il dirigente signor curcio del terina terina ben messo in campo ma che perde da un buon badolato sì diciamo che sono stati due gol sono stati due infortuni nostri cioè prendere gol dopo 57 secondi ti stravolge la partita comunque alla fine il badolato non ha demeritato giustamente ha vinto la partita anche se abbiamo creato molte questioni da gol ci siamo trovati nel primo tempo due tre occasioni che purtroppo non abbiamo finalizzato vabbè comunque è stata una partita abbastanza combattuta alla fine risultato ha premiato i padroni di casa comunque niente ce la siamo giocati purtroppo non te l'ho detto ci è mancato diciamo il tocco tocco finale poi secondo il mio parere l'arbitro ci ha messo del suo però questo è un parere personale quindi non ognuno la pensa come come vuole ok grazie microfoni flavio pultrone flavio parlato che ha subito messo al sicuro la gara al primo minuto poi è stato bravo a difendersi ordinatamente da dalla terrina che non ha tuttavia non è stato tanto pericoloso e poi chiuso la gara per due a zero un buon badolato ci è sembrato ordinato al quadrato sì sì abbiamo messo subito la partita al sicuro dal primo minuto abbiamo fatto col subito cosa molto importante sbloccare nei primi minuti poi dopo strada facendo è arrivato anche il secondo gol quindi abbiamo abbiamo condotto la partita con molto tranquillità l'abbiamo messo in discesa per noi quindi è stata una vittoria molto moderata e tranquilla diciamo questo valore che avrebbe potuto anche arrotondare il risultato nel corso del secondo tempo tante occasioni però non è andata non è andata a buon fine sì 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 diciamo che praticamente ci sono capitate altre occasioni che non abbiamo sfruttato al meglio però si sa quando quando giochiamo in casa dobbiamo costruire di più noi e cercare di creare più noi la regola anche del calcio e però va bene così un 2 0 ci sta tutto una squadra anche una squadra avversaria anche molto molto attenta però abbiamo avuto la meglio meglio così